Il progetto della Parolin Racing Kart lanciato nell'ambito del campionato Champion Kart prevede anche per i bambini dall'età di 5 anni in su la possibilità di cimentarsi in pista con l'obiettivo di divertirsi e di imparare i primi rudimenti della disciplina. A tale scopo sono state create le categorie delfini e baby preagonistica, grazie alle quali i piccoli piloti danno vita a delle esibizioni senza alcuna classifica di gara nell'ambito di un programma appositamente strutturato per rappresentare un'occasione di svago per le famiglie, grazie anche alla presenza di un laboratorio psicomotorio creativo allestito nel pad. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sorpassare Come fai i sorpassi? Mi viene vicino a Tisportiero passi Quando sono partito si è fermato il kart e dopo ho superato quasi tutti Sì Perfetto quindi andavi molto molto forte Sì Sorpassi a destra, a sinistra? Da tutte e due le parti Alle volte ti viene anche sorpassato? Sì E lì ti arrabbi? Un po' Ti piace la pista? Più Più o meno di Adria? Di più E più veloce E quante volte hai già corso tu? Tante Sì Da ieri E oggi com'è andata? Molto Quanto tempo è che fai le gare? Da quattro anni Come ti trovi sulla pista di Lonato? Bene? Benissimo, molto bella e un po' È un po' sweet Oggi sei andato veloce? Sì Hai fatto qualche sorpasso, qualche curva sul cordone? Sì Hai sorperato qualcuno quindi? Sì Per domani che idee hai? Di superare tutti Sì Hai intenzione di vincere? Sì Hai qualche portafortuna prima della gara di domenica? No Sì 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 La pista è molto scivolosa e il kart funziona bene quando scivola Quali sono le tue prospettive di risultato per domani? Non lo so ancora Però ti stai comunque divertendo con i tuoi amici, i tuoi compagni? Certo C'è qualcuno che temi come rivale perché è un po' più forte? No No Da quanto tempo è che gareggi? Due anni Ti ricordi quale è stato il primo turno? Il turno Perfetto Quali sono state le impressioni dopo le prove libere di oggi? Milionare C'è stato qualche episodio che vuoi raccontare al pubblico? No Vedere tutto subito E quali sono i tuoi punti di forza quando guidi? Arrivare laggiù e dare una frenatina e entrare bene Ultima cosa Hai qualche portafortuna che utilizzi prima di qualche gara? Ascoltare mio papà? Ciao 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 Grazie a tutti.